Un recente studio ha rivelato che fare regolarmente gli straordinari aumenta il rischio di malattie cardiache del 60%. Eppure l'americano medio lavora 47 ore la settimana, 164 ore in più rispetto a 20 anni fa, e un terzo non si prende neanche tutte le ferie che gli spettano, senza neanche contare gli sforzi supplementari della vita domestica o di un secondo lavoro. E' un dato di fatto e c'è speranza. La ricerca suggerisce che non è l'intensità del dispendio energetico a causare l'esaurimento, ma piuttosto la durata del dispendio senza recupero. Dio ha previsto il nostro dilemma e ci ha dato il sabato, un dono settimanale che rinnova fisico, mente e spirito nelle nostre vite faticose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.